Salve a tutti ragazzi, sono Tom Seek o Seperti Tom e bentornati qui sul canale. Oggi torniamo a parlare di un sottogenee dell'horror che definire saturo è dire poco. Lo zombie movie. Ora è passata tantissima acqua sotto i ponti dalle prime pellicole di Romero e spesso si è andato a perdere il significato e il messaggio dello zombie movie classico in favore del puro intrattenimento. Nonostante ciò, dei buoni film sul tema continuano ad uscire quasi ogni anno. Soprattutto se sei in grado di scavare in mezzo alla spazzatura di alcuni film che sono davvero abominevoli. E tra questi buoni film sugli zompi di sicuro troviamo gli ottimi prodotti coreani. Come il fantastico Train to Busan, la serie Kingdom che tra l'altro ha fatto la recensione della prima stagione e il film di cui parleremo oggi. Hashtag Alive. Un film uscito qualche giorno fa su Netflix capace di ricatturare l'attenzione dello spettatore, di mettere una costante ansia e di intrattenerlo per tutta la sua durata. Davvero un buon film capace anche di portare un sacco di persone in sala, soprattutto visto la situazione che viviamo oggi, in Madre Patria che praticamente ha fatto record di incassi, soprattutto in questo anno che gli incassi sono davvero poveri. Di certo non raggiunge la vetta in cui primeggia Train to Busan, ma nonostante ciò come zombie movie riesce davvero a convincere, soprattutto per quanto riguarda la parte survival. Infatti in Hashtag Alive assistiamo alla prospettiva di una persona comune come possiamo essere noi. Sì, in questo niente di nuovo sotto il sole. Ma la sua particolarità si trova nel protagonista che deve vivere l'inizio dell'epidemia dentro casa sua. Un uomo rinchiuso dentro le sue quattro mura, circondato da morte e distruzione, in attesa di una morte per stenti o di essere divorato vivo dagli infetti. Insomma, lo spettatore, visto anche quello che è successo quest'anno, sarà maggiormente in grado di empatizzare con il protagonista. Un giovane streamer, pc gamer, che si ritrova catapultato nel bel mezzo dell'epidemia che può vedere scoppiare dalla sua finestra. E ovviamente vede il classico. Persone che si tramutano in zombie e sbranano qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Il ragazzo, solo visto che i suoi genitori erano andati a fare una gita fuori porta, si ritrovava a sopravvivere ad un apocalisse zombie come faremo alla fine tutti noi, chiusi in casa, incapaci di uscire. Il problema è che il nostro amico non ha molte scorte di acqua e di cibo, quindi dovrà ingegnarsi per sopravvivere. Come dicevo anche prima, qui vi è più una componente survival che psicologica. Certo, si vede che l'intera situazione praticamente gli distrugge l'animo, ma il punto della storia non è tanto il non impazzire, mangiato vivo dalla solitudine, ma il semplice sopravvivere ad ogni costo, come gli ricordano anche i genitori per messaggio. Quindi Hashtag Alive si basa maggiormente sul razionamento e la ricerca di cibo e acqua anche negli altri appartamenti, e sullo scappare, non farsi notare e non farsi prendere dagli zombie là fuori. Ma in realtà è proprio qui che volevo arrivare. Nonostante l'idea è molto carina di ambientare tutto quanto dentro una casa, estremizzando quindi la nostra realtà, la nostra esperienza di lockdown nel 2020, era già uscito un film del genere. E, per quanto mi riguarda, riusciva maggiormente a scavare dentro l'animo umano, sulla sua solitudine, sul suo isolamento, sulle sue psicosi e tutto ciò che comportano. Un film indipendente francese del 2018, presente anche su Amazon Prime Video, ovvero la notte che divorò il mondo. Dall'incipit molto simile a questo Hashtag Alive. Nonostante il ritmo più dilatato rispetto al film coreano, la pellicola risulta essere estremamente riflessiva. E questo pizzico di lentezza riesce a catapultarti ancora di più nella situazione che sta vivendo il nostro protagonista, dove tra l'altro anche la noia prende il sopravvento. E se in Hashtag Alive viene in aiuto la tecnologia per sopravvivere, quindi droni, smartphone, social media e walkie-talkie, in La notte che divorò il mondo è la musica a salvare il protagonista. Più che altro a salvare la sua mente. Perché, essendo musicista, è una di quelle poche cose che lo fanno sentire ancora vivo. Di farlo sentire ancora umano, e non una semplice macchina in caccia di cibo come gli esseri al pian terreno. Insomma, è un film basato estremamente sulla solitudine, sulla reclusione, sulla depressione e su tutto ciò che comporta, con anche qualche twist interessante. Tra una spolverata di alta tensione e soprattutto di Io sono leggenda. Ah, tra parentesi, mi riferisco al messaggio finale del libro e non al mediocre film con Will Smith. Alla fine, questi due film sono due vali di zombie movie che vi consiglio. Dall'incipit praticamente identico, ma dai propositi leggermente differenti. Hashtag Alive vira completamente sull'intrattenimento puro, con una forte componente survival. E devo ammettere che il suo lo fa davvero divinamente. L'unico suo difetto probabilmente si trova nel finale sulla risoluzione degli eventi, abbastanza banale e molto frettoloso. La notte che divorò il mondo invece si prende i suoi tempi e punta tutto sul fattore psicologico del protagonista. Dipingendo quindi un quadro del suo stato d'animo capace di colpire nel profondo. Due film che vi consiglio caldamente nel panorama oversaturo degli zombie movie. E con questo ragazzi finiscono le mie opinioni per quanto riguarda Hashtag Alive, ma anche la notte che divorò il mondo. Spero di essere riusciti a mettervi un pizzico di interesse per quanto riguarda questi due film. Se li avete visti sarei davvero curioso di sapere una vostra opinione qua sotto nei commenti. In più vi ricordo che sempre qua sotto trovate tutti i vari link per i social. E detto questo ragazzi, noi ci vediamo ad una prossima recensione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!